Benvenuti nella Galassia Rattics. Cerchi un'auto che sia sportiva, elegante e attenta all'ambiente? Allora non puoi perderti questa Renault Arcana E-Tech Hybrid RS Line. Un'auto usata, ma in ottime condizioni, perfetta per chi desidera il meglio in termini di prestazioni, comfort e tecnologia. Con la sua alimentazione ibrida a benzina più elettrica, Arcana ti permette di risparmiare sui consumi e di guidare in modo ecosostenibile, senza rinunciare al piacere di guida. Immatricolata ad agosto 2021, questa splendida vettura ha percorso 31.878 km, pronta per accompagnarti nelle tue avventure. Dotata di cambio automatico e trazione anteriore, l'Arcana RS Line è facile da guidare e perfetta per qualsiasi situazione, dal traffico cittadino ai lunghi viaggi. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Visita subito il sito rattix.com e scopri di più su Renault Arcana.